Con il questore di Venezia oggi qua a Bibione per un importante progetto che si presenta, parliamo di videosorveglianza partecipata, una maggiore sicurezza per le forze dell'ordine e per i cittadini. Sicuramente Bibione oggi cristallizza una capacità di visione di quello che è la collaborazione tra tutte le parti verso l'obiettivo della sicurezza del territorio. Questo progetto ha nel suo essere una visionarietà e uno sguardo al futuro veramente importante perché è capace di mettere insieme nel rispetto di tutte le norme che regolano la privacy le immagini che possono contenere dei contenuti a interesse di polizia a disposizione del pubblico ma con la collaborazione dei privati e la capacità di questo progetto di mettere insieme le forze per un obiettivo comune che si chiama sicurezza. Un obiettivo che in un territorio turistico come questo assume un particolare valore in quanto incide anche nell'economia del territorio perché elevando i livelli di sicurezza si favoriscono gli investimenti economici. Un progetto con un obiettivo anche più ampio immagino? Ma assolutamente sì perché quando un progetto è così innovativo può diventare modello e in un territorio come questo dove le spiagge rappresentano un'economia importante non solo territoriale ma anche extraterritoriale qui sono spiagge queste frequentate anche da non italiani chiaramente un progetto che eleva i livelli di sicurezza è sicuramente un indotto importantissimo per migliorare e portare sul territorio presenze significative. Grazie. Grazie. Grazie.